Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si iscrive al corso di laurea in scienza, moda e costumi della Facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università La Sapienza di Roma. Professionalmente si forma frequentando, per tre anni, un corso di recitazione presso l'Istituto Cristo Re e la scuola di recitazione diretta da Riccardo De Torre Bruna, debutta sul grande schermo con il film Merry Christmas, 2001, Reggia di Neri Parenti, con Christian De Sica e Massimo Boldi. Nel ruolo del figlio di De Sica e nel 2002 nel film Come se fosse amore, sempre per il cinema, nel 2008 è coprotagonista del film Ultimi della classe, Reggia di Luca Biglione, diventa noto al pubblico prima per il lavoro in campo pubblicitario, in particolare per il ruolo di Testimonial, svolto dal 2001 al 2003. Per Parmalat Fresco Blue, per cui riceve il premio, K-Award, ed in seguito per la partecipazione alla serie TV di Canale 5, Carabinieri, in cui è protagonista dal 2005 al 2007, nel ruolo di Gabriele Vici.